DOLCE LUNA DOLCE LUNA DOLCE LUNA tu diffondi la felicità Una serie che rientra a pieno titolo nel genere Magiocco, quindi le maghette come Magica Emy, come l'incantevole I crimi, pur non essendo dello studio Pierrot, studio che principalmente ha portato i grandi successi del genere. E' stata infatti realizzata dalla Ashi Production, 47 episodi trasmessi in Giappone tra il 90 e il 91, ed è arrivata praticamente subito nel 1991. Qual è la particolarità di questa serie? Nessuna, in realtà nessuna, perché anche la trama è piuttosto semplice e soprattutto molto simile a tutti i cartoni di questo tipo. DOLCE LUNA è la principessa del regno della magia che viene spedita sulla terra dai suoi genitori quando compie 12 anni per cercare di riportare i sogni fra gli esseri umani. Altrimenti il mondo si distruggerebbe e questo periodo lo vivrà insieme a sua zia. Tutta una serie di comprimari e chiaramente al classico animaletto che si accompagna sempre a una maghetta e che in questo caso è questo pinguino che non è proprio bellissimo. Poi un pinguino non è, perché vola, è più piccolo, però vabbè insomma più o meno assomiglia un pinguino. E la perché ne stiamo comunque parlando qua? Perché è molto carina, è realizzata molto molto bene, era un momento magico dell'animazione televisiva giapponese, dove praticamente ogni serie era bella dal punto di vista tecnico, non c'era scampo. La nostra protagonista è doppiata in italiano da Marina Massironi, una certa particolarità perché lei, oltre a essere famosa per avere collaborato per anni con Aldo Giovanni e Giacomo, nel mondo dei cartoni aveva già dato la voce a Tinetta in E' Quasi Magia, Johnny, Orange Road, pur sempre un personaggio comprimario. Come protagonista la troviamo soltanto qui, oppure nella Blue Girl, che però non è mai stata trasmessa in televisione per ovvi motivi. Serie trasmessa pochissime volte, un paio, una delle quali io addirittura registrai la prima puntata perché era già un evento, perché già non lo facevano da un po' e tutti tra di noi, eeeh stanno rifacendo Dolce Luna! Grazie a tutti!